Gentili telespettatori, buona giornata. Quella di Padellaro sembra una elucubrazione mentale che però secondo me non ha a poco fondamento se non nessuno. È una semplice opinione personale di Padellaro che scrive sul Fatto Quotidiano e che è come travaglio un sostenitore di 5 Stelle, è un tra virgolette nemico di Draghi che ha portato via il posto al loro caro Giuseppi e secondo lui Enrico Letta vuole perdere le elezioni. Può essere anche interessante come teoria ma secondo me non è reale. Si parla dell'articolo uscito sulla stampa, sul collegamento di Matteo Salvini con la Russia, siamo all'aria che tira estate sulla 7, 28 luglio. Padellaro dice spero che i giornalisti, compreso l'autore dell'articolo della stampa, cerchino di fare bene il proprio mestiere che avranno cosa rispondere a Gabrielli. Il punto è un altro dice, continua l'editorialista, il fatto. La campagna di delegittimazione della destra serve a poco nel momento in cui il maggior partito del centrosinistra, il PD, ha deciso serenamente di perdere le prossime elezioni. In che senso perdere le prossime elezioni? Noi abbiamo visto sui giornali la cartina basata sul report dell'Istituto Cattaneo che il PD, che va da solo, senza i 5 stelle, praticamente subisce il cappotto del centrodestra, prosegue Padellaro. Quindi la domanda da fare è Enrico Letta, persona intelligente e capace, perché ha deciso di avviarsi tranquillamente e serenamente verso una sconfitta annunciata. lui dice ci possono essere varie ragioni. Forse vuole lasciare nelle mani di Giorgia Meloni il problema della situazione economica che abbiamo sul tappeto. Io sarei curioso di sapere perché Letta ha deciso di perdere così bene, perché devo dire che vogliono proprio perdere bene. Secondo Padellaro, pertanto Letta decide di perdere per lasciare governare Meloni con i gravi problemi economici che ha l'Italia, sperando che un governo Meloni duri molto poco e tornando alle elezioni il PD possa stravincere, perché dopo che il centrodestra ha provato anche Meloni, chi gli rimane? Salvini? Ecco, però credo di no. Non credo. certo andare a governare adesso non è augurabile al proprio peggior nemico. Andare a governare, vincere le elezioni il 25 di settembre, 26, quando le Camere non si possono riunire prima del 15 ottobre. Quindi le Camere si riuniscono il 15 ottobre e da lì c'è la finanziaria mostruosa. C'è il PNRR con 55 obiettivi entro il 31 dicembre, se no i soldi si bloccano. E gli obiettivi non è scrivere delle frasi su un foglio, gli obiettivi sono delle cose da costruire, da fare nella vita reale. C'è da spendere i soldi del PNRR, se no non vi mandano gli altri, anzi li bloccano. In più le pensioni scadono adesso al 31 di gennaio, quel quota 102 forse verrà rinnovata, forse tornerà o verrà riattivata per tutti la legge Fornero che è già una legge dello Stato. Le pensioni, i salari che non sono più adeguati, gli imprenditori di molti settori che non trovano più lavoratori, non perché la gente vuole stare a casa con il reddito di cittadinanza, non c'entra proprio niente. Il fatto che i lavori siano sottopagati si parli di povertà lavorativa. Le aziende, l'inflazione potrebbe verso fine anno aumentare, superare il 10%. Qualcuno pensa che potrebbe arrivare il prossimo anno al 15%. 15% non è un'inflazione data da una crescita economica forte, è un'inflazione data da una stagflazione, da una condizione economica ferma, in recessione, ma con i prezzi in forte salita dovuti al fattore energetico. Ecco, andare a governare un'Italia dove il Fondo Monetario Internazionale parla di possibili disordini sociali, mi capirete bene che non è da augurabile al proprio peggior nemico di andare a governare dal 15 ottobre. Infatti anche la Meloni non se l'aspettava, così all'improvviso, pronti via elezioni, il 26 i prossimi andranno a governare. Lei pensava di avere più tempo per organizzare i ministeri, le cose da fare, dopo che Draghi, il tanto contestato Draghi, avrebbe portato avanti il PNRR a fine anno, avrebbe fatto la finanziaria, avrebbe fatto il salario minimo, avrebbe fatto la riforma delle pensioni e le altre riforme che servono per il PNRR. Invece, visto che la politica dice fa Draghi, c'è la crisi, ci pensa lui, poi noi andremo a governare a maggio del prossimo anno, quando Draghi avrà più o meno sistemato le cose, adesso si ritrovano il centrodestra favorito, ma favorito nell'andare a governare nel momento peggiore della storia della Repubblica italiana. Salvini non è riuscito a governare per il PD e i 5 Stelle che si sono alleati, poi Mattarella ha detto che c'è Covid, non si può. È arrivato il turno di Meloni, ma è arrivato proprio nel peggior momento che ci possa essere, perché il momento economicamente è peggiore di quando c'era la pandemia. È peggiore. Pertanto vedremo che cosa può succedere, anche perché voi sapete bene che i governi non è che hanno tanta possibilità di sistemare le economie dei vari paesi nell'Unione Europea, proprio perché la politica monetaria è in mano all'Europa, non è in mano ai paesi. I paesi i soldi ce l'hanno, non ce l'hanno, non possono decidere di aumentare la base monetaria stampando moneta. L'Italia e nessun paese europeo può stampare autonomamente moneta. Quindi non si può accendere le macchine, vai stampa l'euro che ci serve per pagare le pensioni. Eh ma l'inflazione sale, tu intanto alzale, poi ci pensiamo. Ecco, i governi in Europa ormai hanno le mani legate, perché se tu non sei, non puoi agire sulla tua politica monetaria ed economica, puoi solo fare i bonus, queste cose qui, ma realmente la situazione è veramente ma veramente complessa. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci a presto.